Chi ha provato a prenotare una coloscopia a Torino oggi ha un appuntamento per il 2025, stesso discorso in Sicilia, per ottenere un'attacca. Insomma, paese che vai, fila che trovi, disagi tanto al nord quanto al centro e al sud. Alla fine, 2 milioni e mezzo gli italiani, cioè il 3,8% della popolazione, non si sono curati per colpa delle liste d'attesa. Quasi il 90% delle segnalazioni che riceve cittadinanza attiva da parte dei cittadini riguarda il problema delle liste d'attesa. Per una mammografia si può arrivare ad aspettare addirittura due anni. I dati del nostro ultimo rapporto civico parlano chiaro. I cittadini sono afflitti principalmente da questa problematica e rinunciano spesso purtroppo a curarsi oppure, laddove se lo possano permettere, si rivolgono alla sanità privata. La Premier Giorgia Meloni rassicura tutti, stiamo lavorando a un provvedimento sulle liste d'attesa con un'attenzione particolare alle regioni che hanno un'alta mobilità passiva che tradotto sarebbe quando per curarsi una persona si deve trasferire e la sua regione paga l'altra. E laddove si proceda con delle liste chiuse, la struttura che le effettua è passibile di un'ammenda. Quindi sul sito di cittadinanza attiva, www.cittadinanzaattiva.it, è possibile trovare dei moduli che i cittadini possono inviare alla direzione sanitaria e all'assessorato alla salute della propria regione nel caso in cui ci si trovi di fronte o al fenomeno delle liste d'attesa delle agende bloccate o al fenomeno delle liste d'attesa in cui la priorità non viene rispettata.